Nuova tappa per il tour 2016 dei cantori di Carpino, i custodi della cultura popolare e della tarantella del Gargano che saranno venerdì 6 maggio alle ore 21 al Teatro Cantina di San Severo. Una serata speciale in cui le raffinate melodie dei cantori accompagnano testi di grande forza poetica e si intrecciano sulle sonorità della chitarra battente, strumento capace di evocare i magici scenari del passato e di scandire i ritmi che rimandano alla grande vocazione contemporanea della musica etnica. Lo spettacolo è curato dal CDP Service e organizzato dall'Associazione Culturale I Cantori di Carpino. La rassegna Jazz on Top Felix continua ad incantare il proprio pubblico con un altro spettacolo dedicato alla musica armena il prossimo 6 maggio con Andrea Manzoni e Reosi Anoush Svlazian. I due artisti hanno affascinato Plezie di Mezzomondo, tra cui il pubblico attento e competente di un noto teatro di New York che ha attributato loro 15 minuti di applauso al termine del concerto dell'11 marzo scorso. Il concerto si terrà il 6 maggio presso l'Adiutorium Santa Chiara alle 20.30, per la consueta introduttiva chiacchierata con gli artisti ad opera del curatore della rassegna il critico di musica jazz al Cesse Airoldi. Il prossimo 6 maggio l'ingegnere Andrea Accomazzo, capo della divisione Missioni Solari e Planetarie dell'ESA Agenzia Spaziale Europea, incontrerà gli studenti foggiani in un incontro organizzato dalla Società Astronomica Pugliese. L'incontro si terrà le 17.30 presso il Tribunale della Dogana. Rosetta, un sogno durato 30 anni, il titolo dell'intervento dell'ingegnere Accomazzo, responsabile delle operazioni di volo della missione Rosetta, appunto, iniziata nel 2004 per studiare l'origine delle comete e le relazioni tra la loro composizione e la materia interstellare, quali elementi fondamentali per comprendere l'origine del sistema solare.